carissimi amici di Outbreak Channel ben ritrovati oggi parliamo di un tema di grandissima attualità in questi giorni infatti di arresti domiciliari a causa della piega nazionale del coronavirus per noi sportivi diventa un grosso problema oltre quello più generale un po' che riguarda tutti di come passare il tempo dentro casa anche quello di mantenere il giusto grado di allenamento e oggi fortunatamente ho la possibilità grazie alla cortesissima disponibilità di un gruppo di tiratori di passare alcune ore nell'allenamento indoor e in effetti le nuove tecnologie ci permettono di entrare in contatto con altri appassionati tiratori e istruttori che si possono incontrare su una piattaforma di condivisione noi oggi utilizzeremo un software che si utilizza per fare le riunioni di lavoro che è molto diffuso Zoom, molti di voi lo conosceranno per mettere insieme Luigi Esposito che è un grandissimo istruttore di tiro dinamico e un gruppetto di atleti tra cui anche il sottoscritto per provare in bianco un paio d'ore di esercizi davanti al computer seguire le istruzioni, seguire i consigli, correggere gli errori e comunque divertirsi imparare e anche tenersi in allenamento per fare questo nel migliore dei modi utilizzeremo l'attrezzatura con cui facciamo anche poi le gare ma la adatteremo all'utilizzo in bianco quindi senza sparare dentro casa e senza rischiare di poterlo fare per cui ci creeremo delle munizioni dummy bullet quindi delle munizioni simulacro, false, non funzionanti e adotteremo alcune cautele anche sull'arma per evitare in qualsiasi modo che possa accadere qualche imprevisto che si concretizzi poi in maniera pericolosa gli allenamenti ci occorreranno dei bersagli tre bersagli con un centro all'incirca di 3 cm ora questi sono perfetti perché sono quelli che si usano per il tiro da carabinaria compressa qual è il problema? è che i 5 pallini sono troppi ne serve uno solamente centrale perché potrebbe comunque creare delle distrazioni cosa farò per ovviare a questo problemino? semplicemente ritaglio adesso il centro e lo ribalto dal lato libero in modo che avrò il mio centro perfetto sul mio cartoncino ma va benissimo anche disegnare un cerchio con il pennarello nero su un post-it per quello che dobbiamo fare è più che ottimale per poter simulare quello che è il peso e le attività da svolgere con le cartucce nel caricatore caricherò delle dummy bullet dei bossoli vuoti privi di innesco con delle palle colorate che io generalmente non uso in modo che possa essere più che sicuro di maneggiare sempre munizionamento inerte durante l'attività di training allora per procedere alle operazioni d'allenamento nella massima sicurezza caricheremo delle false munizioni ne facciamo una ventina ma ne basterebbero anche dieci e procediamo ricalibrandone il bossolo uno a uno una volta ricalibrati procediamo alla svasatura che siccome utilizzeremo delle palle colorate è abbastanza un'operazione necessaria procediamo a svasarci i nostri bossolini bene abbiamo fatto questa è una fase molto importante perché dobbiamo essere più che certi di lavorare con dei bossoli vuoti e inerti quindi anche se sono pochi colpi bisogna prestarci più attenzione che non con quelli da gara concludiamo quindi mettendo e crimpando le palle io come accennavo userò delle palle colorate di un colore che non uso mai per cui già a prima vista questi proiettili saranno abbastanza inconfondibili e ecco qua e l'ultimo è pronto adesso abbiamo i nostri colpi da allenamento bossoli senza innesco e la loro palla ovviamente ora non ci resta che indossare tutta l'attrezzatura quindi il gilet perché ci alleneremo in vista delle gare i dpa delle gare doppia azione quindi nel tiro difensivo e la buffetteria porta caricatori fondina e ovviamente pistola prendiamo i nostri colpi mettiamo dentro un porta colpi anche questo molto particolare perché è color rosso ce l'ho solo uno sono sicuro di non sbagliarmi con dei colpi veri in ogni caso ma vedrete adesso vi faccio vedere come aumentare il grado di sicurezza togliendo direttamente il percussore alla pistola e in più mi darà questo la possibilità di caricare di usare il mio carichino rapido per riempire i miei caricatori allora facciamo un altro piccolo inciso queste sono munizioni che io non utilizzo mai perché sono le Colored che sono in piombo poi alla fine verniciate e in effetti poi lasciano un ricciolo al momento in cui le vado a crimpare sporcano moltissimo la macchina per ricaricare non garantiscono poi quello che è il vantaggio della ramatura in canna cioè non garantiscono l'abbattimento della fumosità e quindi sono cartucce che io alla fine ho sperimentato utilizzato ma non uso abitualmente al fine di spingere il livello di sicurezza al di là del più ragionevole dubbio anzi oltre la barriera dell'impossibile cosa faremo per maneggiare in sicurezza la nostra pistola durante l'allenamento semplicemente leveremo quello che è il percussore o una operazione che sulla nostra CZ è quanto mai semplice perché basta sfilare la nostra paratia di contenimento del percussore e percussore e molla verranno via noi staremo ben attenti a non perderceli ma non possiamo nemmeno lavorare acciaio su acciaio cane su parete posteriore dell'otturatore perché questo potrebbe creare dei problemi allora ci mettiamo un bel gommino di quelli che si usano per metterli sotto il mobile e il funzionamento della nostra arma sarà perfetto lo stress delle nostre componenti metalliche sarà nullo prendiamo adesso il retro dei nostri bersagli e ci mettiamo un bel pezzetto di nastro biadesivo i tre bersagli ci servono sostanzialmente per avere dei riferimenti verso i quali fare il nostro esercizio non avremo il risultato sul bersaglio se lo avremo colpito se avremo fatto centro oppure no ma avremo una direzione in cui andare a traguardare quello poi dell'esercizio del tiro e del colpire il bersaglio è un tipo di allenamento che purtroppo in questo momento ci è precluso di cos'altro avremo bisogno sostanzialmente di un computer o anche di un telefonino su cui installare questa applicazione interfacciarci con i nostri compagni di allenamento e di una parete su cui poter piazzare i nostri bersagli li piazzeremo ora la parete rispetto al computer alla zona dove inizierò a fare i miei esercizi è all'incirca a 5 metri e con il nostro nastro biadesivo piazzeremo tre bersagli uno centrale e gli altri due laterali a un metro e mezzo circa l'uno dal lato un metro è più che sufficiente per fare in maniera corretta i nostri esercizi ok cominciamo mettendoci l'attrezzatura il vestiario che utilizzeremo in gara quindi una bella felpetta da infilare rigorosamente all'interno dei pantaloni e il nostro resta da tiro difensivo eccoci pronti colleghiamoci con altri amici qui ci siamo con l'audio ok testiamo anche il video ok ci siamo anche col video e quindi possiamo anche aspettare i nostri compari per iniziare la nostra sessione di allenamento iniziamo a provare a collegarci con i nostri compari ottima allora qual è il discusso siccome sono io il prioritario perché dovete vedere tutti quanti di me dovete dire quanti voi scudere il microfono voi se avete qualcosa da dirmi attivate il microfono vi fate la domanda questa che ha avete scudato il microfono la risposta Luigi io sto realizzando un piccolo filmato mentre facciamo questa cosa per poterla condividere con i ragazzi di Outbreak Channel e far vedere come ci si può allenare anche a casa è una cosa che va bene per te? ma si che scherzi mi ha piacere condividere le cose con gli altri se non ti vuole perfetto perfetto grazie lavoriamo con i pollici alzati si o no ok no eh si oh eh si ok perfetto voi mi vedete schermo pieno? no adesso le posizioni è la posizione normale non qui posizione è riparandelli è questa fatica acqua scarica o la parola o la parola o la parola o tutti i professionisti qui è tutto ok allora ci scambiamo un po' e facciamo estrazione puntamento e scatto sul post-it frontale e quando facciamo lo scatto tracca i filetilino devono essere perfettamente allineati sempre in caso andiamo a scattare e perdiamo tanto di filetilino ai posti che vuol dire che siamo dando troppa pressione anche in letto ok adesso le cose importanti e farlo in reality i primi facciamo tre volte retto pronti via e ci riusciamo ragazzi la sicura quando sono arrivato al lineamento dopo la sicura di nuovo via via ok giallo che fate perfetti andiamo a prendere il caricatore e inseriamo e rifacciamo il fondamento preciso ok pronti via 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 ok estrazione sopra senza scattare estrazione spostamento laterale inseriamo l'internole puntiamo il post-it che sta a destra e scatti pronti e via pronti ok ok estrazione ok questa questa volta fa lo scatto facciamo passettino a destra con cacchio ok corriamo in questa maniera con la lavorata nel paravale arriviamo facciamo circa 3-4 passetti e andiamo a fondare sul post-it che abbiamo visto a destra e si fa la stessa cosa a sinistra pronti peraltro pronti via quindi adesso mettetevi un post-it alle spade vostre adesso che cosa faremo ragazzi facciamo estrazione e scatto siccome dobbiamo andare lì dietro e dobbiamo fare in modo che la lavorata sia sempre riguardo a far parlare faremo questo sinistra indietro e prendiamo già il caricatore quindi spariato passo indietro lungo caricatore inseriamo mentre facciamo il passo la gamba destra vieno la sinistra cambio ruotiamo sta sempre per solità 3-4 passi ruotiamo e incaggiamo il post-it che sta alla vostra spalla pronti sempre con calma via ok tu fai anche gare di dinamico ok perché al dinamico si parte anche con la posizione sopra ok quindi proviamo ogni tanto per acquisire il movimento ok adesso posizione su round quindi pronti mani sopra le spalle questo è per chi fa il dinamico quindi pronti via qui 1 2 sinistra destra e poi pronti via qui è stato molto istruttivo sui fondamentali è sempre importante allora io mi sono divertito molto noi noi lo dobbiamo passi fino alla noia sei stato molto prezioso mi fa piacere spero di riuscire a riunirmi alla classe molto presto grazie a tutti grazie poi ci aggiorniamo per la prossima settimana ti inserisco nel mio gruppo nella mia squadra di tiro così ogni pubblicazione vedrai manchia diretta così ti mando in privato ok perfetto grazie mille ciao Gianluca ciao a tutti ciao Gabriele ciao Nino ciao 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 perfetto avete visto come anche ai tempi del coronavirus si possa riuscire a allenarsi un po' a interagire con gli amici compagni colleghi tiratori e come ogni volta vi invito se questo video vi fosse piaciuto a esprimere il vostro gradimento cliccando il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per esprimerlo con un sempre graditissimo like e se pensiate che altri tiratori che stanno in esilio forzato possano trovare spunto per allenarsi in casa condividete il video su tutti i social e infine se questa fosse solo la prima volta che siete qui su Outbreak Channel perché non ci avete proprio niente da fare le giornate sono lunghe non vi dimenticate di sottoscrivere l'abbonamento al canale perché è assolutamente gratuito e basta cliccare sopra il mio faccione con la maschera anti gas attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato e non ve ne perderete più nemmeno uno neanche quando finirà la quarantena